E' la fase anche in cui Lazio 2 fa un passaggio subito la descrizione della nuova direzione del passaggio della free e del passaggio del tattro destro di Gonzales su una propria metà ma soprattutto veramente una scuola eccezza di verticalizzazione dell'area di rigore firmata. Croce è riuscito in un colpo solo ad anticipare sia l'uscita bassa del quartiere Mirante sia l'attentativo di recupero di Ben Aluano. un tocco solo per Fardo perché il pallone è passato per il mio risotto, le gambe di Miracca e per la Lazio, la Giorgia Lotto, il operario adesso di Cambrero, ha già trovato subito dopo la formazione di Vladimir Peckovic su una bella azione che ha visto la conclusione di, chiedo scusa, il tentativo di assist di Aradu per Mauri che però non è riuscito a agganciare il pallone in piena area, nel frattempo la bella risposta del Parma con una uscita bassa decisiva del portiere Pizzarri su Nicola Sanzone e quindi la tentativa un totesimo di Piaviani, il suo adesso finito alto, trova ancora la conoscenza di Aradu per Mauri, il buon discorso del consiglio di Interlanda, Lazio 2, Armagero 2, Sanzone 2, Sanzone